Non solo angherie e soprusi verso i coetanei. Secondo le forze dell'ordine, una mezza dozzina di giovanissimi avrebbe anche derubato le proprie vittime. Per questo il commissariato e la stazione Carabinieri di Portogruaro hanno notificato complessivamente sei misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e cinque minorenni. Al maggiorenne è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Portogruaro della durata di due anni. I provvedimenti a carico dei minorenni sono tre avvisi orali e due divieti di accesso e stazionamento, per ragioni di sicurezza, in determinati luoghi della città della durata di un anno. Le misure disposte dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, pur di carattere amministrativo, limitano la libertà di movimento, con l'obiettivo, si legge in una nota, di tutelare i minori, sia le vittime che gli autori dei fatti contestati, che potranno riflettere su valori fondamentali come il rispetto delle regole e per gli altri.